Finalmente sui beni confiscati si comincia a fare impresa, si comincia a produrre grazie alla fusione tra mondo profit e no profit. Una scommessa vinta, quella che vede protagonisti Ciro Corona e gli altri membri dell'associazione Resistenza Antica Morra alle prese con la riconversione di un bene sottratto alla criminalità, perché dal fondo rustico Amato Lamberti, dal loro gestito a Chiaiano, prende vita una filiera agroeconomica che si appresta ad avviare una produzione di pomodori distribuiti in tutta Italia. Il progetto, che sarà presentato a stretto giro in Parlamento, si chiama Fanchi Tometo ed è stato illustrato questa mattina al sindaco di Napoli Luigi De Magistris. Con Fanchi Tometo mettiamo insieme cultura, produzione e lavoro, soprattutto attraverso la fusione di tre grandi realtà. Fanchi Tometo, ormai un'esperienza consolidata, Resistenza, che gestisce il primo bene agricolo confiscato della città di Napoli e La Fiammante, che è un'azienda di produzione di pomodori. La nuova filiera partecipata del pomodoro, realizzata nel fondo agricolo di Chiaiano, è un modello innovativo di fare impresa che nasce dal basso. Nella produzione sono impegnati con regolare contratto di lavoro detenuti napoletani ed immigrati. Finalmente riusciamo a garantire il lavoro a detenuti e a migranti in una città dove i detenuti sono i cattivi, i migranti sono quelli che devono andare via, i beni confiscati sono quelli che si devono cacciare. Noi invece siamo qui a raccontare una nuova storia, una storia di riscatto dei territori e delle persone. Quindi abbiamo la difesa della terra, il recupero della nostra terra, che è una terra fertile, del fuoco, in cui il pomodoro ne è una delle ricchezze naturali. Poi la possibilità, soprattutto per i giovani che nella vita hanno potuto anche sbagliare, di trovare un'opportunità di reinserimento sociale, quindi detenuti italiani ed immigrati. Poi la legalità, perché ovviamente il bene confiscato non deve essere messo all'asta, ma deve ritornare al territorio, altrimenti all'asta saranno le mafie che se lo vanno ad accaparrare. Poi un concetto di impresa che è collegato allo sviluppo è un'imprenditoria sana, quindi non ci sono soldi pubblici, non ci sono prenditori, c'è una competitività reale, il coinvolgimento dei consumatori in questo progetto, il reinvestimento nella cultura. Il ricavato sarà utilizzato per finanziare un progetto editoriale sull'alimentazione corretta.